Dai, parliamo nuovamente di Microsoft Edge, Chromium, il chakra di quello vecchio ormai. È esaurito. Volete diminuire i consumi quando questo browser è in funzione? La funzione Schede in sospensione permette di sospendere le proprie schede aperte. È una cosa molto utile di cui nemmeno Chrome è dotato e che Microsoft ha deciso di includere sul suo browser per chi mantiene molte schede aperte ma non vuole chiuderle per rendere la navigazione più fluida. Abilitando la sospensione automatica, le schede che non vengono utilizzate dopo un periodo di tempo vengono congelate per diminuire l'impatto del consumo di risorse di sistema da parte del browser. Le tab sospese sono riconoscibili dalla voce Questa scheda è sospesa. Per riprendere l'attività sulle schede sospese basta tornare su DS e verranno aggiornate in automatico. Detta questa cosa con mille ripetizioni, come attivare ciò? Innanzitutto dovete avere Canary. In futuro potrete farlo sulla versione normale. Magari sarà attiva anche di default. Si fa tutto attraverso le flags, quindi recatevi nella pagina interna del browser dove si può modificare il suo comportamento e sulla voce Edge Sleeping Tabs impostate su Enable. Fatto questo, eseguite l'ultimo passaggio. Recatevi in Impostazioni, Sistema e abilitate il toggle Salva risorse con schede in sospensione nella sezione Risparmia risorse. A questo punto potete scegliere il periodo di tempo prima che le schede vengano sospese automaticamente, da 15 minuti a 12 ore. Nella stessa sezione potete scegliere di impostare alcune eccezioni per i siti che non volete vengano mai sospesi. Se eventualmente qualcosa andasse storto potete ritornare come il browser era prima. Per il flag basta impostare su Default. Userete tale sospensione? Fatemelo sapere nello spazio dedicato ai commenti. Noi ci vediamo ad un prossimo video.